ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video le avete provate tutte ma le zanzare non sembrano voler abbandonare la vostra casa noi di mamma style oggi abbiamo per voi una proposta davvero avvincente un trucchetto geniale che si prepara in pochissimi secondi e che sarà perfetto per mandare via per sempre le zanzare da casa vostra basteranno pochissime cose cose ovviamente che abbiamo tutti già in casa e tenterete a crederci al risultato che riuscirete ad ottenere vediamo insieme cosa ci occorre è il procedimento vi basterà prendere un bicchiere anche di plastica riempirlo con l'aceto e aggiungere al suo interno le bucce di limone e le fettine di cipolle questo mix abbastanza puzzolente sarà davvero insopportabile per le zanzare che decideranno di allontanarsi da casa vostra preparatene 4 o 5 insieme e poneteli intorno al lugo in cui starete in questo modo andrete a creare una vera e propria barriera e potrete passare delle serate tranquille come sempre se ti va lascia un like iscriviti al nostro canale e visita il nostro sito www.mamastyle.it e 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